Cari amici, oggi voglio commentare insieme a voi un articolo di Paolo Di Stefano pubblicato da Corriere della Sera che mi sembra molto interessante, oltre che divertente. È un pezzo sull'eterno problema italiano della scuola e in particolare sulla mania dei ministri di modificare l'esame di maturità. Vi leggo un piccolo passo. Luigi Berlinguer cambiò quasi tutto, commissioni, prove, punteggi e introdusse i crediti. Letizia Moratti volle solo membri interni e un presidente esterno. Fioroni tornò alle commissioni miste e ridimensionò i crediti. Giannini volle per l'ammissione la sufficienza in tutte le materie. Profumo introdusse un sistema accriptato per l'invio delle tracce. Giannini pretese che si valorizzasse l'alternanza scuola-lavoro. Fedeli impose le prove invalsi come criterio di ammissione e corresse il punteggio. Bussetti, infine, ha cambiato il numero delle prove scritte e il sistema di voto. Di Stefano commenta che in realtà l'esame di maturità non è la priorità della scuola italiana ed ha perfettamente ragione. Ma i ministri non solo si sono applicati nel trasformare ogni volta l'esame di Stato, ma hanno presentato tutti, tutti tranne Bussetti per ora, delle riforme complessive della scuola. Riforme complessive più o meno estese, più o meno condivisibili. Ad esempio a me piaceva l'autonomia introdotta dalla Moratti, che poi non fu mai realizzata appieno per l'ostruzionismo del Ministero stesso e dei sindacati. Comunque queste riforme complessivamente, a mio avviso, sono sempre peggiorative, o quasi sempre peggiorative. Io non sono ministro, ma ho insegnato nelle scuole professionali agli artigiani del legno, agli elettricisti, agli idraulici, e a mio avviso il grave errore della scuola italiana è stato proprio quello di dequalificare questo tipo di scuole, le scuole professionali. Un tempo funzionavano benissimo, basta pensare solo a cosa hanno costruito i geometri un tempo, in Italia e anche nelle colonie africane. Fatto sta che insomma oggi tutti preferiscono, o quasi tutti preferiscono il liceo, anche se non hanno alcuna voglia di farlo, e poi vanno a fare una laurea breve, perché in Italia per iniziare a lavorare ci vogliono 250 pezzi di carta. Un tempo invece, chi desiderava entrare nel mondo del lavoro rapidamente, poteva appunto iscriversi a una scuola professionale che effettivamente lo formava. Questo secondo me è il peccato, il nodo da risolvere. Che queste scuole siano dequalificate è dimostrato proprio dall'esame di maturità che ho avuto l'occasione di fare come commissario. All'epoca quando la feci io c'era una prova con i quiz, un tema con quesiti multipli, con tipologie e argomenti diversi, e poi c'era la terza prova che era diversa per ogni tipo di scuola. Ma sia la prima prova, il quiz, sia il tema, erano palesemente inaccessibili a chi avesse studiato in una scuola professionale, erano tarati tutti i quesiti per lo studente del liceo, il che vuol dire che per il ministero gli studenti delle scuole professionali neanche esistono.